Oggi sono particolarmente soddisfatto dei lavori svolti in Consiglio regionale perché all'unanimità è stata approvata una legge che ho voluto fortemente, è quella del Bottega Scuola per l'Artigianato Artistico, che vede nell'ente mostra di Guardia Grele il suo punto di riferimento. Una legge che abbiamo condiviso con gli artigiani, con i maestri artigiani, con le associazioni di categoria, naturalmente con tutto il direttivo dell'ente mostra di Guardia Grele perché si è voluto reintrodurre la figura del giovane che si accosta a questi mestieri che sanno creare dal nulla opere d'arti, pensiamo al ceramista, al fabbro, all'orafo e quindi la regione si è stretta vicino a questa categoria che è particolare, che ha dato tanto lustro alla nostra regione e ha voluto quindi aiutare tutti questi giovani che vorranno affiancare i maestri artigiani. La Giunta naturalmente determinerà le modalità di attivazione della Bottega Scuola. Ci saranno ogni anno delle risorse importanti, circa 300 mila euro per ogni anno e questo permetterà a tanti ragazzi che avranno voglia di imparare, di formarsi, di poter accedere a questa scuola di formazione dentro la Bottega Reale degli Artigiani, quindi in maniera diretta avranno un maestro a loro disposizione. Io ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa legge, ringrazio le associazioni di categoria, l'ente mostra, i maestri artigiani, ringrazio la struttura regionale e in modo particolare l'assessore quaresimale che ha messo a disposizione i fondi per la formazione. A fianco a questa iniziativa di oggi va anche il contributo che si è dato di 30 mila euro per il Museo Barbella per le ceramiche che sono allocate in quelle stanze, in questo palazzo, in questo museo, che fanno capo alle ceramiche di Castelli. Quindi io penso che oggi sia una giornata importante per l'artigianato e per la cultura della regione Abruzzo.